Si sono levate diverse segnalazioni d'allarme da più parti del territorio fanese per quanto riguarda problemi di ordine pubblico. Non si tratta di reati clatanti, di grossi crimini che pregiudicano la sicurezza delle persone, ma di un fenomeno che, coinvolgendo giovani e adolescenti, suscita non poca preoccupazione. Spesso figli di buone famiglie che all'oscuro dei propri genitori si rendono protagonisti di comportamenti che oltrepassano le norme del vivere civile. Vandalismi, piccoli furti, risse, bullismo, sbornie, situazioni da sballo. In questa estate particolarmente calda, molti giovani e adolescenti fanesi girano di notte in gruppo devastando arredi pubblici, prendendosela con i più deboli, confrontandosi a suon di botte tra loro e, in fondo, pur con questo comportamento trasgressivo, intendono lanciare un messaggio. Ci siamo anche noi, non trascurateci. Anche noi vogliamo dire la nostra, solo che la dicono in maniera sbagliata. E allora non manca la repressione. Quanto sta accadendo non viene trascurato dal sindaco Massimo Seri che ci ha espresso la sua reazione. Ci sono degli episodi, delle situazioni che vanno monitorate, sulle che non vanno sottovalutate, però nell'insieme è una città dove si vive bene, questo lo dobbiamo dire rispetto anche al contesto generale. Effettivamente ci sono delle situazioni critiche, chiamiamole così. Sono stati anche degli atti vandalici recentemente, l'ultimo è quello sotto il sottopasso di Viale Cairoli. Devo dire che lì, al di là anche di qualche ilarità, di qualche informazione errata, le telecamere funzionavano, come funziona tutto il sistema di controllo della nostra città. Hanno fatto il loro dovere, la provincia municipale ha individuato il responsabile, sulla quale daremo delle comunicazioni nelle prossime ore e quindi non passerà inosservato e non se la caverà chi si è macchiato di quell'atto grave. Che sono cretinate, perché chiamiamole per nome e cognome, sono vere stupidaggini che non possono essere tollerate. Quindi c'è una situazione complessiva che va monitorata, da una parte attraverso il controllo e anche l'intervento di repressione, come in questo caso, ma dall'altra devono essere accompagnati anche con delle politiche sociali di coinvolgimento, perché le due cose devono camminare insieme, altrimenti non si risolve un problema. Magari si sposta da una parte all'altra della città, si possono generare altri problemi. Quindi sono due elementi che camminano di pari passi sulla quale l'amministrazione sta lavorando. C'è anche un lavoro insieme alle forze dell'ordine che ringrazio, poi c'è anche la necessità di avere qualche rinforzo anche tra le forze dell'ordine, perché, e questo lo voglio denunciare, col fatto che fanno una città a capoluogo paga anche questo limite. Troppo spesso nelle città a capoluogo, pensiamo città che hanno la metà dei nostri abitanti, hanno il doppio delle persone a disposizione. Allora anche questo è una situazione che deve essere modificata. Fano è una città, non è città a capoluogo, ma è una città nel contesto marchigiano grande, una città di mare, che ha una serie di esigenze e non può essere sottovalutata.